Estra ha distribuito 247,5 milioni di ricchezza ai territori nei quali opera, contribuendo alla loro crescita economica. Il dato emerge dal bilancio di sostenibilità 2018 del gruppo. Nel 2018 Estra ha prodotto circa 33,22,5 milioni di kilowattora di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili ed ha inviato a recupero il 91,2% dei rifiuti prodotti. Sono 774 mila i clienti Estra in costante crescita, del 4,1% i clienti gas, del 22% i clienti energia elettrica. Sono invece 81 gli store e i punti clienti Estra. Accordo tra Open Fiber, Comune di Prato, ed Estracom per lo sviluppo della fibra ottica, un investimento di 20 milioni che consentirà di cablare, entro la primavera 2020, 70 mila residenze della città toscana. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS